Allora, ragazzi, con calma, con calma perché ne ho veramente troppe da dire in questo momento, chiedo scusa, sarà un video un po' disordinato, io qui c'ho degli appunti, me li sono scritti tutta sera perché quando ci sono stesse rate del genere non puoi fare altrimenti. Parto da quello che si avvicina un po' più alla Juventus, in realtà tutto il video è strutturato per parlare di Juventus, di parlare di collegamenti con la nostra squadra del cuore, parto dalla partita che ci ha visto protagonisti poco tempo fa e quindi quella col Villareal perché stasera Villareal ragazzi ha buttato fuori il Bayern di Monaco, il Bayern di Monaco. Che cosa cambia per la Juve questa vittoria al Villareal? Niente, cambia niente perché comunque la Juventus è andata a casa, non cambia assolutamente niente, per me il fallimento della Juventus non è stato uscire col Villareal ma penso di averlo già detto in un milione di modi diversi, è stato il modo in cui siamo usciti, la cosa che mi ha dato più fastidio, la grande bocciatura nei confronti di Massimiliano Ligri per quella partita è stata il perdere la testa negli ultimi dieci minuti in una gara dominata perché puoi anche prendere gol per l'episodio del rigore però se poi ti sciogli come neve al sole, me questa sconfitta del Bayern-Monaco dispiace tanto per i tifosi del Bayern ma non mi fa rivalutare assolutamente quello che è stato per la Juve. Poi c'è da fare i complimenti a Unai Emery perché se elimini Atalanta, Juventus e Bayern-Monaco sicuramente non è un caso, l'unica cosa che posso fare è questa perché io ricordo nel video a caldo, nell'amarezza generale dello Juventus Stadium dissi queste parole siamo usciti contro una squadra che lasciatemi dire non è niente di che, ecco qua invece mi cospargo il capo di cenere, qua chiedo scusa perché probabilmente a questo punto non è così a me erano sembrati una squadra normalissima eppure se hanno fatto questa tripla impresa in Champions League arrivando nelle prime quattro classificate ragazzi qua c'è poco da dire, è inutile prendersi in giro, probabilmente sono una gran squadra, hanno giocato al meglio le loro carte Unai Emery penso che abbia messo nel sacco praticamente tutti e se sono arrivati lì probabilmente il loro valore assoluto questo è ma da tifoso Juventino non mi cambia, io ribadisco, la delusione grande è stata uscire in quel modo, non uscire, uscire in quel modo a volte ripenso al sorteggio Champions con lo Sporting, ecco questo mi viene da dirlo chiedo ma davvero un solo tiro in porta perché non ho visto quella partita, ho visto Real Madrid-Celsea e guardando le statistiche hanno fatto solo un tiro in porta all'ottantottesimo, sul serio credo conferma a chi ha visto magari quella o anche quella, però adesso mi viene da pensare a una cosa perché negli ultimi tre anni, soprattutto dopo questa eliminazione, ho sempre pensato che la più forte con cui siamo usciti agli ottavi fosse il Porto invece il Lione che ci elimina con Sarri, poi elimina anche Guardiola nel Manchester City il Villareal quest'anno batte il Bayern, il Porto esce l'anno scorso, immediatamente per fortuna ma contro il Chelsea che poi risulterà campione d'Europa quindi vi chiedo ma in questi tre anni, tifosi della Juventus e Juventus stessa ma abbiamo sempre beccato la squadra tosta che lì per lì non sembrava tosta ma che invece era una squadra tosta a questo punto non capisco perché penso che sia il Manchester City ai tempi di Sarri fosse più forte della Juve di Sarri sia il Bayern Monaco quest'anno sia più forte della Juve di Allegri e probabilmente anche il Chelsea l'anno scorso era più forte del Porto infatti è andato avanti però due volte su tre è successo il contrario con quello che poteva aspettarmi e il Porto mi era sembrata addirittura la squadra più avanti del tre questa è una piccola riflessione che voglio portarvi perché veramente a questo punto parliamo di quell'altra partita Real Madrid-Celsea perché ragazzi madonna che partita abbiamo visto che partita è stata Real Madrid-Celsea allora intanto mi sono chiesto tante volte perché Tuchel lasciasse James nei tre dietro tante volte avevamo una struttura del Chelsea a tre difensori uno era Rudiger sul centro-sinistra uno era Thiago Silva centrale difensivo il centrale di destra era James che è praticamente un esterno offensivo che veniva usato come terzo centrale difensivo io continuo a chiedere ma perché? ma perché? ma perché? la risposta me la sono data osservando un po' quella che è stata la tattica del Chelsea e cioè Thiago Silva a uomo su Karim Benzema Rudiger sempre pronto a scappare anche perché in quel caso c'era anche Valverde che poteva arrivare James a uomo su Vinicius a uomo su Vinicius sempre uomo su Vinicius perché Vinicius partiva da sinistra e allora metto un giocatore veloce in grado di prenderlo a fare il difensore centrale che era un finto centrale era praticamente un terzino che non si alzava un terzino bloccato che faceva il terzo centrale ma è praticamente un esterno offensivo e poi c'è Rudiger da parlare di Rudiger perché anche oggi in gol una buona prestazione è quella di Rudiger per poi macchiarsi con un errore al quale arriveremo dopo io devo dire la verità dato che è un nome in orbita io sono ancora più convinto di volere un difensore del genere nella Juventus si è parlato anche di Bremer Inter in queste ore di Rudiger io ho già parlato se è un free transfer con il decreto crescita anche con un ingaggio un po' più alto rispetto agli 8 milioni di euro ce lo possiamo permettere proprio perché c'è uno sgravo fiscale se poi separa i 30 milioni una firma allora delle due vado davvero a fare la controfferta all'Inter perché con 30 milioni paghi esattamente un cartellino e Rudiger è un 93 e Bremer è sicuramente più giovane poi Rudiger è già pronto a giocare anche serati di questo livello qua Rudiger Tiego Silva gran difesa eh signori veramente gran difesa eppure eppure ma ci arriviamo gol Alonso gol di Marcos Alonso annullato dopo 60 secondi traversa di Benzema dall'altra parte sul 2-0-3 annullato ho pensato che culo che hanno mi è venuto in mente Benatia Lucas Vazquez Cristiano Ronaldo Buffon Scesni la nostra eliminazione al 3-0 di Werner invece ho proprio pensato ok questo l'hanno consolidato passare al Madrid fanno un gol verso la fine e passare al Madrid oh credibile cioè veramente questi questi ci fanno sempre arrabbiare sotto questo punto di vista 1-3 di Rodrigo si chiama Luca Modric è l'1-3 di Rodrigo ancora una volta l'importanza del centro campo di un giocatore del genere della visione di gioco di giocatori di questo tipo qua ne ho parlato nel video dell'andata di questa partita signori c'è poco da dire come Luca Modric in giro ce ne sono pochi il 2-3 invece è l'unico momento in cui James perde Vinicius di quella marcatura di cui vi parlavo è l'unica volta che Rudiger scivola Karim Benzema non sbaglia Vinicius si mette una palla d'oro Benzema gol lo sa fare penso di aver capito che Benzema sia in grado di fare gol non lo so se è l'insieme di Real Madrid Bernabeu Ancelotti la Champions mettete tutte queste cose in un calderone ed esce questa roba qui perché a un certo punto mi sono anche chiesto ci arriviamo con calma prima vi dico Timo Werner e non Lukaku penso che sia stato spiegato abbastanza anche nei movimenti di Timo Werner che poi fa un gol assurdo una roba un po' strana mi viene un momento un po' morata guardando Timo Werner che è un giocatore che svaria tanto si sacrifica copre un giocatore che sbaglia anche dei gol tanti gol magari come Morata non è un top scorer assoluto però è un giocatore che si muove tanto e questo spiega anche perché probabilmente Lukaku non è al 100% dentro gli schemi di Tuchel tra l'altro stavo guardando un attimo in questo momento se Lukaku era in panchina no non era nemmeno in panchina perché infatti non l'ho visto entrare mi era venuto questo dubbio no Lukaku Lukaku non c'era e poi vi chiedo perché la Champions è così bella secondo me per due motivazioni gli episodi appunto il 3-0 di Marco Salonso annullato poi l'attraverso di Benzema poi il recupero l'errore e perché eliminazione diretta cioè senti proprio l'adrenalina e allora qua lancio una provocazione io sono pro a questa cosa qui la serie A con i playoff arrivi a un certo punto della stagione le prime 8 vanno a giocarsi il playoff e lo scudetto lo vince chi viene fuori da questa cosa qui quindi ti fai il tuo campionato normale però a un certo punto si interrompe playoff poi magari chi arriva nelle prime due posizioni parte un po' più avanti non lo so dopo questo si può strutturare però pensare che lo scudetto si possa giocare in una competizione eliminazione diretta stile Champions a me gasa terribilmente mi piacerebbe veramente tanto una riforma che mi piacerebbe inserire all'interno della serie A poi vi chiedo perché invece Real Madrid e Chelsea è stata una partita così bella perché entrambe le squadre secondo me andavano a pressare sempre sulla trequarte con cattiverie aggressive e qua è un po' la critica che rivolgo Massimiliano Allegri ma è una critica personale di cosa mi piace di quello che mi piace vedere e questa è stata una partita piacevole vedere proprio per questa cosa qui perché non c'era una difesa passiva come quella che ha proposto Allegri non sempre in stagione perché dire sempre è una bugia l'abbiamo già analizzata le partite in cui questo non è avvenuto in cui abbiamo cambiato la fase difensiva sono state anche le partite più convincenti probabilmente della Juve di quest'anno invece questa difesa posizionale con le due linee a quattro attendeiste passive che si schiacciano dopo per forza di cose provocano qualcosa di diverso rispetto a quello che potrebbe essere diversamente e ti dico una critica da Allegri tra virgolette perché se poi in passato ha funzionato e abbiamo pure vinto con questa cosa a me sinceramente andava bene perché io sono dell'idea che finché l'allenatore pensa una cosa la mette in atto la mette in pratica e poi funziona e allora c'ha ragione lui non posso permettermi di mettere becco poi per quella che è la mia preferenza mi piacerebbe più un altro tipo di gioco e quindi se vinci va bene se perdi invece ti becchi la critica ma ripeto è una critica soggettiva personale perché a me piace una cosa piuttosto che quell'altra poi non è detto che una funzioni una no che l'altra debba funzionare quello è tutto nel campo di non lo sapremo mai perché è andata così ad ogni modo negli anni ho un po' evoluto il mio pensiero perché ho sempre detto sempre pensato anche negli anni scorsi in Champions League non tu puoi permettergli errore non puoi permettergli sbagliare in realtà non è così puoi anche sbagliare una partita su due tra andata e ritorno perché è così piena di episodi succede tante di quelle cose si svolta tutto poi adesso che hanno tolto questa regola dei gol fuori casa che valga un doppio veramente ci sono troppe variabili nella Champions ormai è diventato quasi assurdo parlare della Champions in maniera logica perché è completamente illogica la Champions League il Chelsea il Chelsea secondo me era la squadra migliore questa sera in campo ha giocato una partita che piace a me aggressiva con un pizzico di tattica l'abbiamo analizzata poco fa con tanta ampiezza perché addirittura love to chic a prendere l'ampiezza veramente qualcosa è e con tanti cambi gioco perché quando cambi palla da una parte all'altra mette ovviamente in difficoltà l'avversario sfruttando l'ampiezza oggi è il complano di Lippi mi è apparso su Twitter un video di Lippi che parlava di calcio moderno diceva 5-6 tocchi di possesso palla da dietro poi verticalizzazione con gli attaccanti che si buttano tutti dentro questo penso che sia il riassunto perfetto di quella che è stata la partita del Chelsea perché inizia la strada dietro non fa chissà quanti tocchi quindi poco possesso palla magari anche sterile noioso no palle recuperate palle in verticali cambi gioco cambi lato attaccanti che si buttano dentro palle in verticali pressing sulla tre quarti e questo è calcio il calcio bello secondo me il calcio bello è sempre soggettivo ragazzi è inutile che ci giriamo intorno a me per dire piace anche tanto vedere una squadra che difende molto bene per dire lo so è un mio feticcio so che tanti non saranno d'accordo però se devo scegliere uno stile di calcio ecco quello del Chelsea stasera giocato dal Chelsea stasera secondo me è il calcio più divertente da vedere però il bello è sempre soggettivo quindi voi potreste essere innamorati che ne so del Tiki Taka che invece a me il Tiki Taka se non è fatto dal Barcellona nei tempi d'oro o dalla Spagna che ha vinto tutto un pochino mi dà un po' noia eppure il Chelsea esce dalla Champions nonostante la gran partita di stasera esce secondo me pagando due macro errori uno tra andata e uno tra ritorno che il Real poi è stato bravo a sfruttare e allora torniamo a fare un riassunto perché secondo me il calcio si può riassumere in poche righe che mi sono segnato qua e saranno poche frasi che andrò a rivolgervi prima di darvi la buonanotte e di darci appuntamento per il video di domani perché secondo me non importa quanto crei nel calcio non importa niente quanto crei nel calcio importa quanto concretizzi che sono due cose completamente differenti vi faccio un esempio Giorginio al minuto 119 questa sera col sinistro la butta fuori è un'azione creata ma è un'azione che non vale niente perché non è stata concretizzata quindi non è valida non è sufficiente per andare ai calci di rigore penso a Juve Villa Real passano loro perché sono stati concreti e noi abbiamo sprecato tutto quello che potevamo sprecare penso a Juventus Inter la stessa identica cosa penso a Italia Macedonia noi quante cose abbiamo sprecato la porta vuota di Berardi ancora lì che di notte ogni tanto mi sveglio oppure Trajkowski li porta al playoff col Portogallo penso a PSG Real dove il Real all'andata era stato super criticato invece butta fuori sia il PSG di Messi di Mbappé di Neymar butta fuori il Chelsea campione d'Europa butta fuori tutti nonostante magari davvero delle partite in cui hai detto ma no non può passare il Real invece sì come quella di stasera penso appunto a Real-Celsea dove probabilmente la squadra migliore è stata il Chelsea eppure passa il Real perché è stato più bravo a sfruttare gli errori è stato più bravo a concretizzare penso al City Atletico e domani vedremo chi andrà a passare chi passerà il turno però il City ha prodotto una gran mole di gioco nella gara di andata eppure ha vinto con un solo gol di scarto e domani sera il Vandal Metropolitano sarà l'inferno poi vediamo che cosa succede è quello che dicevo prima puoi anche sbagliarlo una gara tanto durano 180 minuti è finito il primo tempo e basta penso all'andata e il ritorno appunto tra il Bayern e il Villareal dove il Villareal non lo so stasera ho letto davvero un tiro in porta all'andata qualcuno mi ha detto no poteva farne anche 3 o 4 Villareal però anche lì ho visto che di tiri in porta effettivi ce n'è stato uno poi non è quello lo sapete da quante partite abbiamo analizzato qua non è il singolo tiro in porta però è ovvio che se intanto lo specchi la porta non lo becchi gol non lo fai poi è ovvio magari becchi il palo la palla desce un millimetro sono comunque grandi ma è sempre il problema concretizzare non creare non il numero non quante palle gol no quante palle gol butti dentro quante palle gol sei bravo sei cinico a trasformare il rete perché poi alla fine quello conta e siamo sempre lì purtroppo siamo sempre lì e allora io dico ed è quello che dico sempre se produci tanto e concretizzi poco è uguale a produrre poco e a concretizzare poco preferisco sempre chiarare un buon numero di azioni e buttarle dentro piuttosto che avere dei rammari io ho un rammarico ragazzi incredibile tra davvero Juventus Villareal Juventus Inter Italia Macedonia perché le partite le abbiamo fatte noi le abbiamo avute noi e poi siamo noi che abbiamo perso e sono gli altri che sono stati più cinici più bravi in maniera aggrappati alla partita la Champions di stasera mostra due facce della stessa medaglia da una parte una partita spettacolare Real Madrid Chelsea una delle squadre che ha vinto Champions nell'ultimo decennio contro i campioni in carica partita davvero in cui è successo di tutto due squadre che non siamo per vinte pressano alte una marea di gol dall'altra passa una squadra che probabilmente ha creato meno in cui ci sono stati soltanto due gol contro il Bayern che è una macchina da gol due partite probabilmente agli opposti io ne ho vissuta solo una l'altra me la possa raccontare le statistiche o comunque quello che ho letto sui social in questi minuti ma sembrano due partite completamente diverso e vi dico che hanno un solo punto in comune queste due partite e cioè se rimani nella partita anche fino alla fine stai facendo prestazione perché la prestazione noi siamo abituati a intenderla come chi crea più palle gol no? prestazione è anche rimanere aggrappati dentro la partita e allora per concludere questo discorso rispondo al perché secondo me Juventus Villareal non cambia niente perché quei minuti finali di Juventus Villareal sono quello che ho odiato di più e perché quei minuti finali di Juventus Villareal sono secondo me la critica più grande ad Allegri perché siamo stati incapaci di rimanere ancorati dentro la partita cosa che ha fatto stasera Real Madrid sfruttando il macro del Chelsea cosa che ha fatto il Villareal sfruttando probabilmente l'unica palla gol buona o una delle poche palle gol buone della partita ma andando a casa al Bayern Monaco rimanere nella partita e concretizzare le azioni che siano 10 che siano 10.000 che siano 5 che siano 1 concretizzare e rimanere nella partita cosa che la Juventus non è stata in grado di fare col Villareal al ritorno può esserci direzione può esserci d'aiuto non lo so io intanto queste cose ve le volevo dire e spero che le abbiate apprezzate